Musica Venerdì 2 settembre 2022, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione siciliana di ReTV due anni fa. Per lei il trapianto di Utre, adesso dopo quello straordinario intervento è diventata mamma a Catania, il primo caso in Italia, il sesto in tutto il pianeta. La donna ha messo al mondo la piccola Alessandra, il ricordo della sua donatrice, del peso di 1,7 kg. L'organo proviene da una 37enne morta per cause naturali che aveva espresso la volontà di donare un'altra vita in caso di decesso. Un evento eccezionale che esalta le capacità medico-scientifiche di un'equip allargata che apre una nuova quasi miracolosa frontiera della medicina moderna. Il servizio è di Francesco Larosa. È il stesso caso al mondo quello che riguarda la piccola Alessandra, venuta alla luce all'ospedale Cannizzaro di Catania da una madre che era priva di utero a causa di una patologia congenita. La donatrice, una 37enne di Firenze, deceduta per un improvviso arresto cardiaco e che in tempi non sospetti aveva già espresso il consenso in tal senso. È quasi un miracolo della scienza portato a compimento da un'equip medica allargata composta da illustri medici del Policlinico di Catania e dell'ospedale Cannizzaro. Alessandra è la prima bambina a nascere con questo tipo di intervento in Italia. Era presente il sesto caso assoluto al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo il trapianto di utero da donatrice deceduta. Il trapianto era stato effettuato due anni fa in piena pandemia nel centro trapianto dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Catania da un'equipe multidisciplinare di cui fanno parte anche i professori per Francesco Massimiliano Verù, Paolo Scollo e Giuseppe Scibilia. Nel mondo a fronte di una sessantina di bambini che sono nati, di fatto ufficialmente nel mondo registrate ce ne sono 45, poi ce ne sono altri 15 che non fanno parte però del registro internazionale. Comunque consideriamo 50 nel mondo, di questi 50 nel mondo solamente 5 sono nati da donne trapiantate con utero o deceduto. E il sesto è il nostro, la nostra bambina, la nostra Alessandra che è nata appena due giorni fa e sta bene in terapia intensiva neonatale per la prematurità però sta bene. Un grande lavoro d'equipe che ha coinvolto anche oltre che tanti professionisti due strutture ospedaliere. Sicuramente sì, consideri che non si può questo trapianto considerare un trapianto effettuato solamente da un'equipe di colleghi, chirurghi, trapiantologi di cui abbiamo necessità. È un lavoro di equip di più figure professionali, di più competenze che non è solamente la competenza ginecologica nella sua interezza perché c'è una parte, per esempio per la parte, diciamo, di mia competenza. C'è una competenza di altissima chirurgia ginecologica perché l'espianto è un intervento molto complicato, un intervento in cui si deve avere un'esperienza consolidata di oncologia ginecologica e di chirurgia oncologica ginecologica. Dopodiché c'è tutta la parte che segue al trapianto e quindi l'impianto in un organo che non era preparato per questo. Quindi poi con i colleghi, quindi con l'equipe dei colleghi trapiantologi siamo riusciti e riusciamo con la loro esperienza, con la loro cultura, con la loro vicinanza e devo dire totale dedizione insieme a questo percorso che ormai sono due anni che portiamo avanti. Poi c'è la parte di fecondazione assistita, cioè c'è la parte della preparazione che viene fatta prima del trapianto. La piccola Alessandra è nata alla 34esima settimana con un peso di 1,725 kg. I genitori l'hanno voluto dare lo stesso nome della donatrice dell'utero scomparsa. Il pensiero di una donna deceduta che dona il proprio organo, l'utero, e che a distanza di due anni possa donare la vita e possa dare alla luce una bambina è veramente un'esperienza unica e al limite del comprensibile. Professore, qual è stato il momento di maggiore difficoltà in questa operazione sinergica? Innanzitutto bisogna sottolineare l'aspetto multidisciplinare di questo trapianto. Il nostro centro trapianti fa normalmente trapianti di rene di pancreas, ne ha fatti più di mille in 20 anni di attività, ma questa è l'unica esperienza di trapianto multidisciplinare insieme ai ginecologi. Il trapianto di utero è fra i più complessi in assoluto perché presenta delle difficoltà tecniche che ne limitano molto l'utilizzo nel mondo, ancora più quando il prelievo viene da donatore cadavere, come è stato nel nostro caso. Il momento più difficile è stato sicuramente il momento in cui abbiamo prelevato l'organo a Firenze, poi siamo ritornati e l'indecisione anche legata al fatto che era il primo trapianto, il momento di fare il trapianto e le prime anastomosi eseguite dal nostro gruppo, è stato forse il momento più difficile, però immediatamente coronato da un'immensa felicità quando abbiamo visto l'utero perfettamente vascolarizzato e riprendere vita dopo il declampaggio dei vassi. Parliamo adesso di politica, ha presentato stamani a Lars il tour elettorale del candidato alla presidenza della regione del Movimento 5 Stelle e Nuccio Di Paola, da oggi previste diverse tappe in diverse località siciliane. La carica c'è, la motivazione pure. Nuccio Di Paola, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della regione, inizia il tour elettorale. Stamani a Lars è stato presentato il programma, le nostre proposte, ha detto Di Paola, le porteremo in giro per i comuni siciliani. I fallimenti di chi ha governato gli ultimi cinque anni sono sotto gli occhi di tutti. Tra le priorità c'è la realizzazione degli impianti che consentirebbero di diminuire i costi elevati della Tari, la tassa su rifiuti, necessario poi togliere la politica dalla sanità. Io oggi i competitors li sento pochissimi, anche perché non vogliono nemmeno fare i confronti con il Movimento 5 Stelle, perché noi da dieci anni siamo sul territorio, da dieci anni con tutta una squadra siamo all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, ascoltiamo da tempo le categorie, conosciamo sia i problemi che le soluzioni a tutto quello che sta accadendo ai siciliani. Vogliamo togliere fuori la politica dalla sanità. I politici nel corso degli anni, indipendentemente dal partito che ha governato, hanno utilizzato la sanità come bancomat elettorale. Togliamo le ASP, le ridisegniamo, perché ad oggi le ASP, fateci caso, sono per collegi elettorali. Ogni ASP è disegnata per collegi elettorali. E a seconda dei politici di turno che sono presenti in quelle ASP, favoriscono un ospedale piuttosto che un altro. Allora la sanità deve essere uguale in qualunque comune. Non ci sono cittadini di serie A, cittadini di serie B o di serie C. Tagliamo 27 poltrone, 27 nomine di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, che sono tutte nomine politiche, 27, collaudi stipendi. Dalla nostra c'è la concretezza. Abbiamo una squadra, saremo presenti sul territorio come lo siamo stati in questi anni. Il candidato pentastellato si prepara per l'intensa ma breve campagna elettorale, in giro per la Sicilia. Previste numerose tappe, annunciata la presenza del leader del Movimento, Giuseppe Conte. Saremo in giro in questi 20 giorni, faremo almeno 4 eventi al giorno su comuni diversi e poi ci sarà, e quindi toccheremo più di 60 comuni, e poi ci sarà il nostro presidente Giuseppe Conte che sarà presente in Sicilia il 16 e il 17 settembre e con il dinamismo e la movimentazione che abbiamo fatto nel corso degli anni, perché noi non ci siamo mai fermati in giro per i territori, saremo in più comuni della regione siciliana e cercheremo appunto di trasmettere e di raccontare ai siciliani qual è il nostro programma e quali sono le nostre proposte. Ancora ritardi nei pagamenti alle imprese da parte della regione siciliana il presidente della regione Nello Musumeci ha diffidato i dirigenti generali. Abbiamo sentito l'assessore regionale all'economia, Gaetano Armao, il servizio sempre di Luca Licata. La strillata stavolta è arrivata dal presidente Nello Musumeci che ha messo i gravi ritardi della regione nei pagamenti alle imprese. Dietro a tutto ciò c'è un blocco burocratico con pratiche ferme da un anno in alcuni dipartimenti. I danni da mesi ricadono totalmente sulle spalle di imprese e lavoratori. Tra dipendenti e fornitori sono circa 2000 ad attendere i pagamenti dovuti. A rischio poi c'è la stessa sopravvivenza delle imprese. Musumeci in una nota ha diffidato i dirigenti generali dei dipartimenti coinvolti nei ritardi a mancare e il riaccertamento ordinario dei residui ad empimento obbligatorio che interessa tutti i rami dell'amministrazione. Circa 3 miliardi di riaccertamento e il settimana prossima si completa. Ovviamente alcuni dipartimenti hanno procurato dei ritardi in alcuni casi tipo trasversale che sono riversati su altri ma l'intervento sul piano disciplinare è stato immediato sulla responsabilità dirigenziale. Nonostante il periodo elettorale potrebbe per qualcuno indurre a non adottare misure così drastiche noi pensiamo che prima vengono le imprese e poi vengono coloro che hanno uno stipendio garantito. Quindi priorità assoluta è i pagamenti alle imprese. Una ventina di giorni fa l'assessore all'economia Gaetano Armao ha chiesto il rientro dalle ferie dei dipendenti responsabili nell'iter dei procedimenti. Il completamento del riaccertamento consentirebbe lo sblocco definitivo della spesa e la predisposizione da parte della ragioneria del rendiconto generale del 2021. Abbiamo lavorato in modo concertato. È chiaro che il capo dell'amministrazione, il presidente della regione, l'assessore all'economia che cerca di recuperare come può in alcuni casi il tempo che si è lasciato correre da parte di alcuni dipartimenti non è un caso che io in alcuni casi ho chiesto il rientro addirittura alle ferie perché la priorità sono i pagamenti alle imprese. I carabinieri del NAS di Catania hanno ispezionato numerosi esercizi del centro storico catanese del lungomare di Ognina, tra questi macellerie, ristoranti e bar con annessa attività di ristorazione che hanno portato al sequestro di circa 400 kg di alimenti, l'applicazione di sanzioni amministrative per oltre 8 mila euro con conseguente segnalazione all'autorità amministrativa dei titolari di 5 esercizi, due dei quali hanno subito anche la sospensione dell'attività. Sequestrati oltre 60 kg di prodotti itici posti in cattivo stato di conservazione per i quali non era stata documentata la filiera alimentare. Contestata presso alcune macellerie inoltre del noto mercato di piazza Carlo Alberto state vedendo appunto un'immagine che fa riferimento a questo sequestro la condotta vietata ed antigenica di esporre le carni macellate all'esterno dell'esercizio senza alcuna protezione da insetti e da agenti atmosferici a temperature ambientali elevate vista l'ondata di caldo delle scorse settimane. Sono stati sequestrati circa 100 kg di carne. Di particolare rilievo è stato il sequestro sempre operato dai carabinieri del NAS congiuntamente al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di oltre due quintali di alimenti di varia natura tra quali prodotti itici stoccati in modo promiscuo in una cella frigo all'interno di una trattoria del lungomare. cittadino. E sempre i carabinieri del NAS c'è un'altra notizia in collaborazione con i militari della compagnia di Lercara Frida e Petralia Sottana il personale dell'ASP di Palermo hanno sequestrato nel corso di diversi controlli quasi mille tonnellate tra grano e mangimi non tracciati. A Palermo il cimitero dei Rotoli si parte dal forno crematorio chiuso ormai da più di due anni per fare vedere la luce in fondo al tunnel lunedì prossimo l'impresa che si occuperà dei lavori di manutenzione per rimetterlo in moto farà il primo ingresso al cimitero e comincerà gli interventi della prima tappa della roadmap che prevede un restyling degli edifici cimiteriali e non solo il tempio. Era la nostra priorità, ha commentato l'assessore comunale ai servizi cimiteriali Toto Orlando che da giorni si aggira con operatori e direttore tra i viali del Camposanto con tanto di report fotografico per certificare le maggiori criticità e risolvere l'emergenza. Lo scorso 4 agosto le squadre di operai della ditta avevano iniziato ad occuparsi in primo luogo di predisporre l'area del cantiere per procedere nei prossimi giorni con la realizzazione delle basi in cemento armato dove verranno installati oltre 400 loculi in arrivo nelle prossime settimane. L'area marina protetta isole ciclopi di Acitrezza nel territorio di Acicastello priva di boe di segnalazioni e di controlli alimenta pesca di frodo e anche il passaggio indiscriminato di barche a motore nonostante i rigidi divieti a protezione dell'ecosistema marino al servizio di Salvo Couturi. Aria marina isola dei ciclopi di Acitrezza borgata marinare di Acicastello il presidente dell'associazione Futuro Mare Carmelo Larocca solleva dubbi sulla gestione dello specchio di mare dell'arcipelago protetto da norme e regolamenti che ne tutelano i fondali e regolano la navigazione sebbene si tratta di un'area istituita a ridosso di scarichi fognari. L'isolotto maggiore in cui è vietata la pesca all'ormeggio e persino il passaggio delle barche a motore se non ad una certa distanza regolata da boa di segnalazione una è sprofondata e rimasta immobile l'altra ha resistito alle mareggiate dallo scorso inverno le due che delimitano il lato opposto dell'isolotto invece sono state travolte dal mare in tempesta e mai riposizionate. I due mezzi in dotazione all'area marina protetta raramente effettuano i servizi di controllo come pure in natante riservate ai turisti con fondo trasparente. Aria marina protetta dell'isola dei ciclopi non decolla per come dovrebbe secondo le aspettative. I marinai del luogo e telecamere spente ci hanno confidato che la notte fondale da tempo ormai vengono depredati da sub illegali che operano indisturbati. L'area marina protetta dell'isola dei ciclopi è un'area marina protetta appunto che si estende il tratto di mare antistante a citrezza e comprende il piccolo arcipelago dell'isola dei ciclopi e il tratto di mare tra Capomolini e Punta Guzza nel comune di Eci Castello istituita con decreto ministeriale nel 2014. Si legge nella portale dell'ente di tutela con l'obiettivo di proteggere flora, fauna e nell'insieme l'ecosistema marino favorendo il ripopolamento ittico e la protezione di specie a rischio. Per il presidente dell'associazione Futuro Mare sono tutti obiettivi mancati e ogni sforzo di promuovere il sito da parte di associazioni etiche come quella promossa dalla Rocca è stata vanificata dai contini in quanto inspiegabili di nieghi. Purtroppo le condizioni sono sotto gli occhi di tutti basta venire qui dove siamo noi adesso e vediamo le boe di segnalazione abbandonate completamente quando dovrebbero essere messe in un sito e tutelate perché comunque sono soldi del contribuente. Ci sono le imbarcazioni ferme questi signori praticamente escono poco e niente un'area marina protetta che nasce sfortunata nasce sfortunata perché nasce nelle vicinanze di uno sbocco fognario perciò voi potete immaginare i due nomi area marina protetta e fogna non è che proprio ci sposano perfettamente in più c'è una gestione particolare una gestione chiusa che non apre al commercio non apre al diving solo alcuni diving possono operare all'interno dell'area marina protetta Ogni forma di immersione è regolata da precise regole l'associazione Futuro Mare è stata negata alla possibilità di un percorso tattile per persone non vedenti mentre è stata autorizzata la posa a fondo di gabbie contenenti del vino per testare l'evoluzione dell'affinamento sottomarino del vino etneo un paradosso secondo il presidente Larocca Non possiamo fare azioni commerciali dice il direttore ma cala il vino sott'acqua dove praticamente va a deturpare comunque quelle che sono le condizioni del fondo marino e non la reputa questa è un'azione commerciale veramente delle cose assurde e inspiegabili aspettiamo risposta area di parcheggio in via Gannelli zona urbanizzata tra Aci San Filippo e Cicatena nel degrado a denunciare lo stato di abbandono e incuria il consigliere comunale d'opposizione Giuseppe Aleu che contesta l'aumento dell'Atari la tassa sui rifiuti che ha subito un'impennata del 19% ancora Cotuli è polemica da Cicatena per lo stato di abbandono in cui versa il parcheggio comunale fiammingo attrezzato con aria giochi e un campetto di calcio all'ingresso di via Gannelli siamo nel quartiere Finocchiari tra Aci San Filippo e il centro della cittadina Trinea una sorta di terra di mezzo un limbo dimenticato da chi dovrebbe occuparsi nel vigilare a segnalare lo stato di degrado il consigliere comunale Giuseppe Aleu giunto secondo nella corsa 5 per la carica di sindaco e maggior oppositore dell'amministrazione in carica che rincara la dose e punta l'indice contro l'aumento del 19% della Tari bollato come ingiustificato in un momento particolarmente critico per l'economia di molte famiglie pressate dai continui aumenti in seguito alla crisi pandemica e i risvolti nefasti del conflitto russo-ucraino anche i residenti dicono la loro e accusano l'ente di essere stati dimenticati e grida dal balcone questo signore potremmo stare più puliti e se ne fregono e non sa che non lo so vogliare e non lo so da la secchietta nel parcheggio da tempo interrubata e vandalizzata un pericolo per i più piccoli che risiedono nel quartiere la spazzatura presente nel resto del parcheggio con annessa aria attrezzata per i bambini è ridotta così neanche i cassonetti presenti vengono svuotati alimentando il costante stato di incurie il campetto in erba sintetica invaso di rifiuti il resto dello slargo comunale insiste da settimane in condizioni non degne di una comunità civile quest'area era stata riqualificata più volte grazie all'aiuto di molti giovani che in estate rendono il campetto fruibile con dei campionati estivi l'abbiamo sempre cercata di renderla viva ora ultimamente l'ultimo mese e mezzo la cosa è andata veramente con il decato più totale è sporco i cestini non vengono svuotati quindi giustamente anche se è sbagliato l'inciviltà delle persone aumenta perché buttano le bottiglie per terra o perlomeno nei pressi del cestino quindi si sporca l'aria ma la cosa più grave sono le macchine abbandonate c'è questa macchina abbandonata che è un pericolo per i bambini perché c'è vetri rotti senza assicurazione basta controllare la cosa più semplice quindi un intervento importante oggi la cosa che mi ha lasciato di stucco veramente è quando alcuni amministratori o pseudo tali dicono alla gente che se vogliono la piazza pulita se la devono loro gestire o mantenere o curare ancora peggio gli dicono che sono solo fatti di carabinieri e non possono fare niente gli dicono che addirittura quando si mettono e quando si tolgono le telecamere io spero che stiamo scherzando siamo su scherzi a parte perché se questo è il modo di amministrare di alcuni pseudo amministratori di maggioranza bene che si dimettano domani mattina perché appena che ne avrò le prove certe è chiaro che il nome e cognome andrà a finire sugli organi di stampa si amministra perché si deve avere al cuore la città ma soprattutto la cicatena questo è lo scopo per come si è sempre amministrato e poi come i lati di Pisa si va ad agosto quando la gente magari non vede ad aumentare la spazzatura del 20% la gente non è solo per pagare la gente vuole i servizi un aumento scellerato e che si poteva tranquillamente evitare quindi se l'assessore Quattroocchi non è in grado di gestire nettezza urbana e tributi o lo gestisce solo perché pensa che alle spalle ha un grande amministratore bene si dimette e cambi settore perché stiamo andando di male in peggio una notizia l'ufficio per il contrasto del dissesto idrogeologico della regione siciliana ha pubblicato la gara per affidare lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 38 che va dai paesi del Vallone sino a Caltanissetta complessivamente per l'opera è stato stanziato un budget di 18 milioni di euro le domande di partecipazione dovranno pervenire per via telematica agli uffici di piazza Ignazio Florio entro le prossime 24 ore lungo i circa 20 chilometri del tracciato sono presenti diversi sprofondamenti dell'asfalto a causa di una serie di frane che adesso verranno arginate attraverso lavori di consolidamento e di regimentazione delle acque piovane ripristino dell'intera carreggiata prevede pure l'installazione del guardrail segnaletica stradale in programma anche la ricostruzione di un ponte crollato sostituito provvisoriamente con la struttura prefabbricata del tipo Bailey a Gravina di Catania la prima edizione di un volto per Gravina nei locali dell'anfiteatro Turiferro 45 piccoli modelli dai 12 mesi ai 17 anni hanno sfilato in passerella in costume abiti casual ed eleganti per conquistare le ambite fasce di categoria una grande festa arricchita anche da momenti di incantevole magia con i numeri del noto artista Francesco Giuffrida Magic Illusion Daniela Cantarella piccoli modelli in festa sul palco dagli emozionati e un po' spaisati della categoria Pulcini di appena 1, 2, 3 anni alle più spigliate aspiranti star dai 12 ai 17 45 splendidi aspiranti volti per la moda e lo spettacolo si sono contesi ieri sera il titolo di un volto per Gravina la prima edizione della Kermess organizzata da Colata Lavica e Promo Paola sotto la direzione artistica del maestro Antonio Lombardo un evento di spettacolo e condivisione un momento di crescita non una gara tengono a precisare gli organizzatori della serata in cui tutti sono stati simbolicamente vincitori con una medaglia al collo secondo me qualsiasi situazione qualsiasi progetto noi li chiamiamo progetti che appunto vengono rivolti ai bambini che danno loro la possibilità di stare insieme socializzare condividere confrontarsi è sempre un momento di crescita un momento importantissimo per loro il nostro intento è proprio questo organizzare eventi che portano sia alla preparazione quindi dei bambini quindi dar modo già da piccoli di prepararsi a degli eventi di questo tipo di questo genere proprio per affrontare direttamente l'esperienza a viverla e in modo da poter capire se veramente il bambino abbia talento o comunque se si possa portare avanti e far sviluppare questo talento proprio con queste esperienze come quella di stasera Un Volto Per nasce cinque anni fa sì sì esatto nasce cinque anni fa proprio dalla richiesta di due genitori che non potevano far seguire questo corso di musical perché come abbiamo già detto facciamo anche questo e così cinque anni fa abbiamo fatto la prima edizione di Un Volto Per e abbiamo fatto fra l'altro un servizio fotografico bellissimo in spiaggia perché abbiamo fatto durante l'estate tutti gli shooting e quindi i bambini hanno vissuto anche la preparazione gli shooting professionali con il set fotografico poi si sono visti nelle stampe e insomma è stata una grande soddisfazione per loro Alla giuria il difficile compito di votare e decretare i vincitori della Garmes Quali sono i criteri di scelta in questo caso? Allora simpatia di bambini è come prima cosa la bellezza non posso dire perché sono tutti belli ora ovviamente il portamento sul palco sono bambini più portati di partecipare sul palco certo gli si vergognano però noi guardiamo ovviamente tutte queste cose Un battesimo della passerella per molti piccoli partecipanti alle prese con prove sfilate per la prima volta nelle loro giovanissime vite chi un po' impaurito chi divertito chi curioso e affascinato studiava ogni dettaglio con occhioni grandi e stupiti Ti stavi truccando? Sì Hai messo il rossetto? Sì Ti piace sfilare? Sì Quanti anni hai? Quattro E come ti chiami? Charisse Senti tu farai la sfilata a Modamare immagino vedo un costumino giù Eh sì Come vi chiamate? Sabrina E tu? Vittoria Quanti anni hai tu? Quattro anni Sei piccolina ti piace sfilare? Sì 15 le fasce consegnate per categoria agli splendidi modelli di tutte le età 3 per la Modamare con Roberta Veca al primo posto seguita da Claudia Sapuppo ed Elena Picciotto Le tre fasce della categoria Teenagers sono andate a Roberta Veca Marta Cesarotti e Gabriele Lossino Primo posto invece per la moda casual a Sabrina Sciacca secondo a Dejanira Buda e terzo a Salvatore Liberto Le tre fasce per la moda fashion sono andate rispettivamente a Nathan Strano Serena Sciolti e Nicolò Camonita Ad aggiudicarsi l'ambito titolo di un volto per è stata invece la piccola area in Bornone dalla provincia di Sciacca al primo posto seguita da Claudia Sapuppo e Nicolò Camonita Tra i piccoli modelli saranno inoltre selezionati bimbi e bimbe per un futuro format televisivo emozione tanta per lo più nel backstage tra preparativi scelte dell'abito e mamme impegnate a truccare le loro piccole star ma i più emozionati si trovavano tra il pubblico genitori, nonni anche bisnonni accorsi da ogni parte della Sicilia per vedere sul palco i loro emozionati e sorridenti bambini spazio anche alla magia con l'affascinante spettacolo del noto artista Francesco Giuffrida Magic Illusion minuti di magico stupore scolpito sui volti di adulti e piccini affascinati da numeri incredibili in cui anche piccole colombe bianche sparivano e riapparivano inspiegabilmente e poi la festa di chiusura tutti i vincitori sul palco a scaricare la tensione e ballare insieme i tormentoni dell'estate e un arrivederci all'anno prossimo andiamo avanti con il nostro giornale un servizio che fa riferimento alle condizioni del casello a Giardini Naxos nella zona di Chianchita perse in cattive condizioni l'area decente di casello autostradale di Giardini Naxos nello specifico lo svincolo che conduce nei pressi della frazione di Chianchita e Calcarona diverse le segnalazioni di cittadini e turisti quest'ultimi spesso disorientati dalla segnaletica di velta che giace sul secciato non mancano rifiuti sparsi nelle oiole spesso ripulite dall'amministrazione ma che a causa dell'inciviltà puntualmente vengono ricoperte da bottiglie e spazzatura varia come documentato dalle immagini sicuramente non è un bel biglietto da visita per i numerosi turisti della valle dell'Alcantara o per i bagnanti in cerca di ristoro diretti nelle spiagge del lungomare Schisò anche il mando stradale e il guardrail nella zona non è dei migliori e rappresenta un serio pericolo soprattutto per i mezzi a due ruote insomma una situazione di degrado che andrebbe risolta nel più breve tempo possibile come sollecitato da diversi residenti il vice sindaco chiarisce la situazione diversi cittadini lamentano lo stato di degrado del bivio per Calcarone purtroppo quello che sta dicendo lei è vero e noi in qualche modo siamo pure mortificati perché diciamo siano stati cittadini a evidenziare questo ma dico la verità noi questo già lo abbiamo fatto e lo abbiamo segnalato perché appunto è l'ingresso del nostro paese e in quella situazione in cui si trova è pessima diventerebbe un brutto bigliettino da visita noi speravamo che si sarebbe intervenuto nel più presto possibile perché vogliamo precisare che la parte delle rampe dove c'è il rettilineo è dell'ANAS invece la parte dove avete visto che ci sono i segnali diverti quella è del CAS tant'è vero che nemmeno un paio di mesi fa il CAS è intervenuto perché c'era una situazione instabile nel viadotto noi a questo punto perché ci sono arrivate anche a noi delle segnalazioni come sono arrivate a voi ci mobiliteremo iscriveremo pure a Roma affinché si possa intervenire perché non può ripetersi nuovamente anche per il prossimo anno che quella zona che l'ingresso del paese sia in quelle condizioni voglio dire pure un'altra cosa purtroppo c'è l'inciviltà che regna noi spesso anche mettendo a rischio i nostri operatori ecologici abbiamo trovato diverse buste di spazzatura e gli operatori ecologici in una situazione che è pericolosa perché è un retterino nonostante ciò si fermano e vanno a raccogliere quelle buste e li vogliamo fare per scongiurare perché altrimenti diventerebbe una micro discarica e adesso vediamo il servizio sulla campagna abbonamenti del Catania SSD l'obiettivo è quello di colorare il massimino con quanti più spettatori possibili in occasione delle gare interne della nuova formazione calcistica di Catania il club rossazzurro ha presentato stamattina la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2022-2023 per l'intera stagione che comprende tutte le partite casalinghe si pagheranno 65 euro in curva 125 in tribuna B 225 in tribuna A l'elite invece costerà 400 euro ma sono previsti anche i prezzi per le categorie ridotto riservate alle donne agli under 18 e agli over 65 in questo caso 50 euro la curva 100 la tribuna B e 180 la tribuna A lo stadio Massimino peraltro sarà come noto sottoposto a dei lavori di riqualificazione ma in tal senso esiste il massimo impegno affinché tutto proceda con regolarità a partire dall'iniziale gara casalinga della Catania prevista per il prossimo 25 settembre fin da subito noi vorremmo avere davvero tante famiglie allo stadio abbiamo cercato di farlo contenendo i prezzi soprattutto per i ragazzini perché chi ha figli non è giusto che paghi cifre troppo elevate per poter portare allo stadio magari i figli e quindi direi che il prezzo simbolico di 0,50 per i ragazzini under 12 sia significativo ci sono dei lavori che stiamo facendo che sono quelli richiesti dalla Commissione di Vigilanza che servono per avere la capienza piena o comunque il più possibile nel giro di breve poi ci sono tutta una serie di lavori che sono stati già appaltati dal Comune a cui adesso dovranno scegliere l'azienda a cui affidarli che riguardano il cambio di tabellone il rifacimento della pista che però non sono programmati in questo momento ma pianificheremo insieme in modo da non dover chiudere lo stadio durante il campionato Nelle prime partite ho visto una squadra che ha talento una squadra che ha giocatori di ottima qualità ho visto una squadra che è nuova che ha bisogno di un po' di tempo per trovare certi equilibri che servono nel calcio una squadra che aveva bisogno anche di un po' di tempo per carburare e mettere dentro il lavoro nelle gambe siamo partiti con un po' di ritardo per quello già sapevo che potevano essere delle difficoltà fisiche in questi ultimi giorni vedendo la squadra la risposta è stata positiva dal lavoro che stanno facendo rispetto che le famiglie di Catania vengano allo stadio a dare gran supporto a questa squadra questa squadra è per la gente di Catania per i catanesi va bene allora è importante che la società diciamo punta verso una campagna alle famiglie e faremo questo nei prossimi settimane perché è importante che noi facciamo capire che questa Catania cresce proprio per la città di Catania c'è la pubblicità tra poco rieccoci in studio non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora dunque scopriamo il tempo per la giornata di domani le previsioni meteorologiche per sabato 3 settembre il cielo splenderà in tutta l'isola sia sul versante orientale che su quello occidentale i venti saranno deboli assenti i mari calmi uno sguardo adesso le temperature che si mantengono pressoché invariate rispetto a quelle dei giorni scorsi sul capologo etneo speculari come dicevamo sia la minima che la massima rispettivamente 22-34 gradi centigradi si sale di un punto per Siracusa con 35 gradi mentre la più fresca è notta da Enna con 13 gradi centigradi è tutto grazie grazie per averci seguito e preferito vi ricordiamo che l'informazione di ReTV torna puntuale questa sera alle 19 e 45 a voi tutti buon proseguimento di pomeriggio grazie grazie grazie